Sarà potenziata per Pasqua e Pasquetta la vigilanza della sezione della Polizia Stradale di Caltanissetta. I controlli saranno intensificati in occasione delle festività pasquali per scoraggiare eventuali spostamenti in località di villeggiatura o seconde case. Sull'autostrada A19 nel tratto di competenza compreso tra Buonfornello e Caltanissetta, sulle strade stratali 640 Caltanissetta Grigento, 626 Caltanissetta Gela, sulla strada statale 115 nel tratto di competenza Licata-Vittoria e sulla 117 bis tratto Gela-Niscemi, oltre che sulle arterie provinciali di maggiore percorrenza. Dal monitoraggio della Prefettura, riferito a ieri martedì 7 aprile, emergono in tutto il territorio provinciale 28 persone sanzionate dalle forze di polizia, anche locali, 1095 quelle controllate, 460 controlli negli esercizi commerciali sul rispetto delle misure per il contenimento dalla diffusione e il contagio da Covid-19. 8 in totale le persone denunciate per altri reati. E a Gela, tre ventenni, sono stati segnalati per uso personale di sostanza stupefacente. I giovani non si sono fermati all'alte di una pattuglia della squadra volanti del commissariato, in via Venezia. Il conducente della Fiat 500, che transitava a velocità sostenuta, dopo aver simulato l'arresto, ha accelerato tentando di lileguarsi. Durante l'inseguimento, gli agenti hanno notato che uno dei passeggeri ha gettato dal finestrino degli involucri. Dopo aver bloccato l'auto, i tre sono stati identificati e condotti in commissariato, i poliziotti hanno recuperato e sequestrato tre sacchetti di marijuana. Sono stati inoltre multati, poiché senza giustificati motivi di necessità o esigenze lavorative, si trovavano fuori dalle rispettive abitazioni. Al conducente del mezzo è stata ritirata anche la patente di guida. E nell'ambito dei servizi predisposti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, le pattuglie del commissariato, con la collaborazione di personale del reparto prevenzione crimine di Palermo e dei militari dell'esercito italiano, hanno identificato numerose persone e attività commerciali ed eseguito 95 verifiche di soggetti sottoposti in regime di quarantena fiduciaria.